Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Spero bene! Noi ci siamo qui di con il Guale Europeo di Oto! Allora ragazzi! Allora ragazzi! Eeeeeeeeeeeeeee Quelle botanità mettiamo? Quattro? Quattro di creativo! Ok! Guardate che vanno sbloccati! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa è bloccato facciamoci domani facciamo che qualche fatto va bene tutti conti ma io riesco a correre ma vero che non è uscita come si chiama la mappa quanto ci avrei messo ninja polisi sicurissimo ok adesso avvio con questo faccio capito con questo faccio con questo faccio con questo faccio già si già abbiamo capito dalla sua intro ma qualcuno mi può aprire questa cesta aiuto si dispiace dovete scendere voi ma perchè sono è la giornata è la giornata ma perchè c'è la spada qua ma non ci sono delle armi da me non ci sono armi e dovete scendere aiuto che è successo ma non che hai fatto che hai fatto che succede eeeh 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 non mi ha fatto eeeh eeeh ma Giulio non mi fa... non mi fa tagliare la blanata non mi fa tagliare i miei ah ora capisco io voglio un cecchino vabbè ma come si fa ad... ad tornare ora qualcuno mi dica... la cosa perché sono morto? boh perché sono morto? no 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 cos'hai fatto? troppo casino troppo casino ah ma non ho il nome già ho fatto troppo 63 63 aspetta c'è un problema c'è un problema in qua che hai fatto? eh non si possono cambiare c'è un problema non si possono cambiare la difender di riflette e danni tipo tu fai da me e ci fai da noi pure qua a giola a giola aspetta che vi è nota ora qualcuno qualcuno ti deve spiegare spiegare perché quando io attacco con il piccone si stacca e chi si chiama? ma tu hai avviato la partita? no no ma avviano eh no c'è un problema eh no c'è un problema c'è un problema come si fa a uscire da qua? si fa uscire da qua vada una centra allora una centra allora ci ho allenato ok ok dai non si può fare mi ha fatto che dovrebbe essere giusta dietro la legge mentre che sto laggando anche un pochettino quindi mi sono la del Gjom fammela cambiare eh la quale non lo abbia sentito l'ho provata per combattere non lo abbia sentito l'ho provata ah ma lo è quello straforte ninja non è straforte ninja mt no ma questo è forte no ma lui gioco mi parla ma l'è lui no 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 Lì guardo.. Vite qua prima vento stupidi Vite qua solamente qua perchè? Ma vietemi E' da passi a livello 100 Avivia la partita, avivia Avivia Si lo vede tra, non è entrato Ma perchè non lo volete far entrare? Non lo volete far entrare? ho perdito senza mia assistita, come ti va a svolto quando mi la assistiva? fammi prendere le ali io non voglio prendere le ali questa cosa non è figa amare un maniglio vai a me uccidere! vai a me uccidere! go! ma dai sei un cattivo bambino ma non c'era qui! mi raccomando la stella minnata ok vanno fuori non lo bilotta, non lo bilotta allora non mi uccidete dentro non mi uccidete dentro non l'aghiro, io ho tempo possibile no! ma manuel non mi spara! 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 entirely non non mi spara! ecco co! ti amo al top ti amo noooo nooo no no dai tutto c'è il gioco no andrew oh oh è troppo difficile con quel combattito non puoi no per favore cosa cosa ho fatto a morire un colpo di una lenta bar restato perché che è ah 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 allora prendetelo prendetelo ma che male ma che male ma che male io ho ancora un certo io ho ancora un capo ma non ma non ho fatto 36 dai manu allora devo giocare a nabo allora devo giocare a nabo non 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 ma 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 wow oh la lì oh la lì ok lì che c'è fatti oh no 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 ma io lo ce l'ho ma io lo ce l'ho ora 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 si aspetta no 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 200 in testa scusa no 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 segja segja no no ma mi ha assistito visto le scarpe io bravo come si è freddo? non è iniziato a non c'è un momento inizio che noto l'anno io ma io ti stai impegnando Gioella 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 Hai messo Aiuto Aiuto Si gira più avvisuale Mi ha attaccato Mi ha attaccato Adesso come faccio Io ci Io ci Non ci fai su Gioia Perchè? Perchè? Dai 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 Perché la madre Perché la madre Non sennete ok adesso potete attaccarmi la mamma ma che culo un italy morto va bene il caso devi siamo stai girando con il mare e le vengono in giro avanti MA DORRE! e che c***o qui non è vero che adesso? i muti perchè? per cosa devi andare? da lino non solo! che c***o è giocatore? che c***o è giocatore? ahahah ah non ci sono andati non ci sono andati oh no oh my god vanta vanta arriva venti e vada mangiare vantiquila vantiquiti non sai giocare dai anche tu non sai giocare no non sai giocare non avevo aspettato ma non vuoi scendere ma non vuoi scendere aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un attimo come si fa cosa cosa aspetta ah 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 quando gioia non c'è allora così scolo che voglio scolo voglio io non riesco io io voglio che ti faccio ti faccio l'ultima kill dove siete? faccio l'ultima kill e spengo stanno misando? c'è la batteria dov'è? c'è la batteria c? 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 ci sono mai c? 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 ma lo sai che Robiletto è andato a mangiare? ciao 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 ragazzi io finisco il video e noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao